Da quando c'è stato il lancio, che eravamo circa una cinquantina, andare alla fine di luglio, da una cinquantina siamo arrivati a circa oltre mille, il tempo è troppo breve per organizzarsi, eccetera. Infatti magari creavano un distaccamento, lo mettevano in una certa zona, senza conoscere chi erano questi partigiani, questo è il problema. Lì loro hanno deciso di fare una formazione nelle Fiamme Verdi, sono passati in tutti i distaccamenti che voleva andare con loro, mi hanno chiesto anche a me, io ero un cattolico, ma non ci sono andato perché mi stavo bene, le rigole di me, non ci sono andato. E lì si è trasformata la Bligata Fiamme Verdi con Carlo, il don Carlo, il comandante, che in seguito poi il vicecomandante era il mio carissimo amico, Aldo Dall'Aleo, Italo, che è morto poi nella battaglia dell'Arstellamento del 7 gennaio, è morto il 10 sul Brampolo qui. Anche lui mi aveva chiesto di andare con loro, e per fortuna che non ci sono andato perché tutti i vicecomandanti, non solo quelli lì, sono morti in combattimento con le Fiamme Verdi, penso un po'.